Il progetto è difforme da quello già valutato e questo è il giudizio del Comitato Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo riguardo la centrale idroelettrica sul fiume Vomano. Il via ha così confermato quanto denunciato dalla stazione ornitologica abruzzese che per prima aveva segnalato le difformità nell'esecuzione della centrale documentate anche con un drone rispetto al progetto approvato. È necessario presentare uno studio preliminare ambientale, sottolinea il Comitato, finalizzato alla valutazione degli impatti derivanti dalle modifiche. Il via richiede un particolare approfondimento circa la realizzazione dei dreni, la movimentazione delle terre e delle rocce di scavo, il posizionamento delle opere e di quanto altro realizzato in difformità. Adesso procedendo secondo legge vi sarebbero tre possibilità. La diffida per eliminare le osservanze, la diffida con sospensione dei lavori o la revoca del provvedimento. Nessuno di questi è però il percorso intrapreso. La regione ha attivato d'ufficio una procedura di verifica di assoggettibilità, valutazione di impatto ambientale. In sostanza ha un passaggio preliminare per determinare se il progetto possa oppure no essere sottoposto al procedimento di via. E questo è un atteggiamento ambiguo da parte dell'istituzione, poiché questa verifica è generalmente richiesta dall'azienda e non è prevista in nessuna norma. Hanno ricondotto il procedimento di verifica preliminare, fanno sapere dalla SOA, a refusi e varianti che nulla hanno a che fare con le difformità ben più rilevanti che sono state segnalate. L'associazione lancia l'allarme, c'è il rischio di una sanatoria, per di più promossa dalla regione. Intanto i lavori hanno stravolto il fiume Vomano per due chilometri, fiume che, secondo i dati dell'Arta, presenta una qualità delle acque scadente e quindi già non sarebbe in grado, almeno secondo la normativa comunitaria, di sopportare un'ulteriore antropizzazione del territorio.